Nel corso del Settecento 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 rivolenza imperiale russa si rivolgeva solo allo strato alto e collaborazionista della nobiltà polacca. Per motivi sia etnici che sociali, i vertici dello Stato russo guardavano con sospetto al resto della popolazione polacca presente in Ucraina, che poteva ancora godere della libera circolazione e dell'affrancamento dalle servitù economiche e personali che invece gravavano sui contadini ucraini. L'insurrezione indipendentistica polacca del 1831 esacerbò l'atteggiamento russo. Fu quindi varata una politica di depolonizzazione culturale e religiosa. Ma le undicimila famiglie di nobili possidenti polacchi mantennero comunque il primato sociale ed economico nella regione della riva destra del Dnipro almeno fino al 1920. In questo contesto nel marzo 1835 furono offerti tre anni di esenzione fiscale ai mercanti russi che si fossero trasferiti in Ucraina. Nel febbraio 1838 giunse a Kiev il nuovo governatore delle province ucraine, il generale Bibikov, eroe delle guerre napoleoniche e destinato ad assumere nel 1852 l'incarico di ministro dell'interno dell'impero. Bibikov intensificò i procedimenti di snobilitazione e asservimento della popolazione polacca non proprietaria, la quale già da tempo si stava assimilando alla massa contadina ucraina di cui aveva spesso acquisito sia la lingua che la confessione religiosa ortodossa. Ma ciò che Bibikov e l'autocratico zar Nicola I non avevano compreso è che l'ucrainizzazione dello strato medio e basso della popolazione polacca non voleva dire automaticamente la loro russificazione. Significava al contrario fornire la massa contadina ucraina di elementi ancor meno assorbibili in una grande fratellanza russa e che potevano svolgere il ruolo di catalizzatori di una separata identità ucraina rispetto a quella russa. Intanto un gruppo di intellettuali chiiviani con a capo lo storico e docente universitario Kostomarov di padre russo e madre ucraina e il poeta pittore ucraino Taras Shevchenko, nato contadino quindi servo, vissuto a San Pietroburgo e affrancato per le sue doti intellettuali da esponenti decabristi, fondarono negli anni 40 dell'Ottocento una società segreta che voleva perseguire la preservazione dell'identità ucraina e ottenere l'autogoverno dell'Ucraina. La società, denominata Confraternita dei Santi Cirillo e Metodio, fu scoperta dalla polizia segreta zarista e i suoi membri furono arrestati nell'aprile del 1847. Kostomarov fu dapprima imprigionato ma poi graziato ma allontanato dall'Ucraina. Shevchenko fu condannato a dieci anni di servizio militare obbligato e inviato in Asia. Solo nel 1857 egli fu riammesso nella Russia europea. Morì nel 1861 alla digilia del decreto imperiale di liberazione dei contadini dal servaggio. Shevchenko scrisse poemi in lingua ucraina dandole nuova linfa e alta dignità letteraria. Nei suoi poemi egli fustigava l'imperialismo zarista, l'autoritarismo, lo sfruttamento dei contadini ucraini e il collaborazionismo nobiliare con la dominazione russa in Ucraina e in Polonia. I suoi poemi sono da considerare la rifondazione contemporanea della nazione ucraina. La generazione successiva a quella di Shevchenko mantenne e ravvivò la fiammella dell'ucrainismo sotto forma di clopomania, clop è il contadino tanto in ucraino quanto in polacco, ovvero ucrainofilia, tendenza che coinvolse nella seconda metà dell'Ottocento anche gli spiriti di molti giovani polacchi, disgustati dalla crudeltà dei magnati possidenti che non esitavano a usare il diritto di punire corporalmente i servi. Intellettuali come lo storico Volodymyr Antonovich, professore all'Università di Kiev, si fecero ucraini, si convertirono all'ortodossia e promossero la nascita di una coscienza nazionale ucraina. Negli anni Sessanta dell'Ottocento furono artefici, assieme ad esponenti dell'intelligenza ucraina, della creazione di club nazionali ucraini, o gromadi, nelle diverse città ucraine. Uno degli esponenti più importanti di questa intelligenza ucraina fu lo storico Dragomanov. Da parte russa la seconda metà dell'Ottocento fu all'opposto caratterizzata dal montare di un atteggiamento anti-ucraino. Dopo il 1947 anche gli intellettuali russi modificarono sensibilmente le loro posizioni e, ad esempio, il famoso filologo Zreznevsky, che pure si era espresso in precedenza in favore della riscoperta della cultura ucraina, scriverà nel 1849 che l'ucraino non è altro che un dialetto dell'antico russo, una tesi che rimase corrente in Russia per decenni. Il filosofo russo Pagodin negò l'esistenza di un autoctono popolo ucraino, mentre il filologo e giornalista russo Katkov definì a sua volta artificiosa e sostanzialmente inesistente la lingua che gli ucrainofili andavano utilizzando nei loro scritti, traendola dall'ucraino parlato. In un articolo del giugno 1863, Eli giunse a definire l'intero movimento ucrainofilo come espressione di un complotto polacco. Un episodio di questa crescente insofferenza anti-ucraina fu lo scioglimento della Romada di Poltava, o società ucraina, e poi come esito finale di tali manipolazioni storiche e linguistiche ci fu la circolare segreta del ministro degli interni imperiale, Valuyev, con la quale si vietava l'utilizzo della lingua ucraina in giornali, libri e testi religiosi. Veniva vietato anche l'uso dello stesso termine ucraina. La circolare ammetteva solo la pubblicazione di opere letterarie in ucraino, ma con tutte le altre coercizioni dovute all'occhiuta censura zarista sulle opere letterarie, che fu ancora più severa nel caso di testi ucraini. Lo stesso Valuyev affermò che non c'è mai stato, non c'è e non ci può essere, una distinta lingua piccolo-russa. Non esiste, e gli disse, che una sola lingua russa. Le proibizioni della circolare Valuyev fecero cessare quasi del tutto le pubblicazioni in ucraino e il movimento ucraino fu colpito anche dalla chiusura definitiva della rivista Osnova, che Kostomarov aveva creato a San Pietroburgo, e dall'esilio di molti importanti esponenti dell'ucrainismo. Ad esempio l'autore del testo, che poi diverrà ino nazionale ucraino, cioè Chubitsky. Un altro importante scrittore ucraino, Kulish, che aveva fatto parte della confraternita dei Santi Cirillo e Metodio, preferì allontanarsi volontariamente in Polonia. E anche la Romada di Kiev fu sciolta per alcuni anni. Nel 1871 Dragomanov fece notare, nel giornale in lingua russa che egli aveva creato a Kiev, come nell'impero russo esistessero 420 periodici pubblicati, di cui 31 erano in polacco, 3 in yiddish, altri nelle diverse lingue parlate dai sudditi dello zar, ma non vi era alcun giornale in lingua ucraina. A rafforzare questo apparato repressivo anti-ucraino, volto a impedire una linguisticità ucraina, nel 1876 ci fu il decreto di Ems, località dove lo zar Alessandro II prendeva i bagni, decreto che allargava il divieto alle rappresentazioni teatrali e alle esecuzioni musicali in pubblico. Dragomanov fu escluso dall'Università di Kiev e preferì l'esilio volontario in Svizzera, da dove però continuò a esercitare la sua azione culturale in favore del recupero delle matrici storiche della cultura ucraina e dei suoi sviluppi linguistici e culturali. Per dare un'idea della pervasività dei divieti legati al decreto di Ems, si possono citare i casi di un maestro della provincia dell'attuale Dnipro, che fu licenziato nel 1876 per aver acquistato in Russia sei libri in ucraino. Mentre i contadini della regione di Cernigiv, nel nord dell'Ucraina, negli anni 70 venivano spesso trascinati in tribunale per aver cantato in pubblico canzoni ucraine. Nel 1888 venne poi proibito l'uso dell'Ucraino negli uffici pubblici e la registrazione all'anagrafe di nomi ucraini. L'esecuzione di questo apparato repressivo fu attenuata solo dopo la rivoluzione del 1905. Sul piano economico e sociale, la liberazione dei servi, che in Ucraina avvenne qualche anno dopo rispetto al decreto del 1861, finì per rafforzare finanziariamente i ceti proprietari, poiché i contadini liberati avviarono una corsa all'acquisto di proprietà terriera, una vera e propria fame di terra successiva alla eversione della feudalità, alimentata anche dall'esplosione demografica di quegli anni, e tutto ciò portò quindi a questo aumento di valore della proprietà terriera, che è stato calcolato essersi innalzato di più di sei volte negli ultimi 35 anni del XIX secolo. Si formò quindi in Ucraina una classe media contadina, kurkul in ucraino, kulak in russo, classe sociale che poi sarà stigmatizzata dai bolshevichi. I kurkul costituivano circa il 15-20% dei contadini, possedevano in media 70 acri di terreno, un altro 30% di contadini era composto da piccoli proprietari che possedevano dagli 8 ai 25 acri, vale a dire terreno sufficiente alla propria sussistenza. Un restante 50% di contadini era fatto di piccolissimi proprietari che dovevano lavorare come braccianti e stagionali per sopravvivere. I latifondisti ucraini, in maggioranza polacchi, forti dei profitti e dell'aumento di valore della terra, iniziarono ad allargare i loro interessi economici, dedicandosi alla principale attività industriale dell'epoca nell'impero russo, vale a dire gli zuccherifici. Dopo il 1880 il settore ebbe un grande sviluppo in Ucraina, seguito dalla concentrazione in un ristretto nucleo di grandi produttori che producevano da soli circa il 30% dello zucchero dell'intero impero. Ci fu anche un fenomeno importante di inurbamento poiché gli abitanti di Kiev quadruplicarono tra il 1870 e il 1905, passando da circa 70.000 residenti a quasi 300.000. Gli abitanti di Kiev divennero circa 600.000 nel 1914. Dal punto di vista sociale, gli ucraini non erano ai vertici della società, di cui continuavano a costituire la parte meno affluente e dedita soprattutto all'agricoltura. Tra l'altro, per effetto delle immigrazioni russe che si ebbero alla fine dell'Ottocento, in tutta l'Ucraina sud-orientale cominciò a manifestarsi quel fenomeno demografico che persiste tutt'oggi, vale a dire una leggera prevalenza di russofoni nelle medie e grandi città, del Donbass soprattutto, l'immigrazione di personale amministrativo e l'inurbamento della popolazione ebraica comportò anche che alla fine dell'Ottocento gli ucraini fossero minoritari nelle città di Kiev e a Odessa, mentre essi erano la maggioranza a Poltava e Kharkiv. In totale, nel 1897, secondo il censimento imperiale, i russi rappresentavano l'11% dell'intera popolazione dell'Ucraina zarista, quasi tutti giunti in Ucraina nella seconda metà del XIX secolo. Dopo la rivolta del 1648 e la creazione del Getmanato, nell'Ucraina polacca, cioè nella regione della riva destra del Dnipro e nella parte più occidentale dell'Ucraina, cioè la Galizia, rimase presente l'organizzazione della Chiesa Unita, che più tardi si chiamerà, come detto, Chiesa Greco-Cattolica. Poi però, quando anche la riva destra fu assorbita dall'Impero Russo, anche qui nel 1832, la Chiesa Greco-Cattolica fu soppressa dalle autorità imperiali zariste. Essa sopravvisse quindi nella Galizia, che faceva parte dell'Impero Austriaco, e qui è rimasta per secoli, come l'organizzazione religiosa specifica degli Ucraini di Galizia. Quindi la Chiesa Greco-Cattolica, per quest'area occidentale dell'Ucraina, non sottomessa all'Impero Russo, lungi da rappresentare una forma di polonizzazione e disnazionalizzazione degli Ucraini, essa finì invece per svolgere il ruolo di catalizzatore della specifica identità ucraina all'interno della Galizia austriaca e quindi segnò l'identità differenziata degli Ucraini rispetto agli austriaci e ai polacchi di religione cattolico-romana. Ancora oggi gli Ucraini occidentali, come vedremo, professano in maggioranza la confessione greco-cattolica. Non è però vera, bisogna dirlo fin d'ora, la vulgata che sta recentemente prendendo piedi in una certa pubblicistica che il fiume Dnipro dividerebbe in due l'Ucraina con tutta la parte occidentale che sarebbe di fede greco-cattolica. Non è così perché, come abbiamo detto, anche la riva destra del Dnipro, e cioè le regioni della Podolia e della Volinia, sono a maggioranza ortodosse, mentre l'organizzazione ecclesiastica greco-cattolica è maggioritaria solo nella Galizia, quindi la parte più occidentale dell'Ucraina. Per cui il corso del Dnipro, che taglia precisamente a metà l'intera Ucraina, non può costituire la linea di frattura fra le cosiddette due Ucraine. Questa linea va spostata molto più ad ovest e comunque neanche qui svolge questo ruolo di cesura geopolitica perché, come vedremo, in virtù di questo attaccamento identitario alla Chiesa greco-cattolica, gli ucraini occidentali, quando crollerà l'impero zarista, preferirono riconnettersi agli ucraini dell'area centrale ed orientale dell'Ucraina. Gli ucraini occidentali galiziani non perseguirono una forma statale autonoma, ma si sentirono legati, da un vincolo comune di nazionalità, agli ucraini che avevano vissuto all'interno dell'impero rosso. Ma su questi temi torneremo più avanti. Nel 1905 una commissione dell'Accademia Russa delle Scienze, per effetto della ventata di liberalizzazione creata dalla rivoluzione avvenuta in quell'anno, aveva finalmente riconosciuto l'esistenza di una lingua ucraina e il governo aveva quindi revocato i divieti precedenti. Dopo le elezioni della prima Duma imperiale, si era formato un club di deputati ucraini che superò le 60 adesioni. Lo storico Mikhailo Grushevsky, autore della prima e ponderosa storia dell'Ucraina, e ormai noto in tutto l'impero per la sua sfida intellettuale allo schema tradizionale della storiografia russa, raggiunse San Pietroburgo, da Leopoli in Galizia, allora appartenente all'Austria dove insegnava, e divenne l'energico ideologo del gruppo parlamentare ucraino. Tuttavia lo scioglimento della prima Duma e il ritorno ad atteggiamenti reazionari da parte dell'autocrazia zarista si tradusse negli anni successivi in continui intralci alla regolarità e diffusione della stampa in ucraino e alle attività delle associazioni ucraine. Già nel dicembre 1905 era stato arrestato Sergei Yefremov, redattore di Hromad Skadumka, che fu il primo quotidiano in ucraino dell'impero zarista, giornale che poi fu chiuso dalle autorità russe. Anche le associazioni culturali ucraine, Prosvita, ovvero Lumi, sorte dopo il 1905, furono tutte chiuse prima del 1911. Quella di Kiev, la cui intensa attività culturale colminò con la richiesta di una federazione di repubbliche slave, raccoglieva almeno 600 aderenti, tra cui la famosa scrittrice Lesia Ukrainka, il citato Yefremov, il grande musicista Mikola Lisenko, i figli di Drakomanov, l'educatore e scrittore Boris Grinchenko, che ne fu il presidente. In occasione del cinquantenario della morte di Shevchenko nel 1911, in seguito all'affollatissima messa di Requiem celebrata in Santa Sofia, le autorità zariste disposero il sequestro di opere del poeta ucraino. Il 10 marzo 1914, per la prima volta, il Movimento Nazionale Ucraino diede luogo a manifestazioni di piazza a Kiev e nelle altre città dell'Ucraina. Un comitato studentesco di protesta riuscì a radunare circa 10.000 persone per manifestare contro il divieto del Ministero dell'Interno Imperiale di commemorare pubblicamente il centenario della nascita di Shevchenko. La manifestazione fu studentesca e spontanea, senza la collaborazione degli esponenti ucrainofili più in vista. Si videro, per la prima volta, anche le bandiere nazionali ucraine gialle e blu. Nella Galizia austriaca, qualche settimana prima, sempre nel 1914, una nuova legge elettorale aveva permesso agli ucraini di ottenere una più folta rappresentanza nella dieta provinciale e di rompere il monopolio politico-amministrativo goduto almeno dal 1867 dai polacchi nella regione. I tempi stavano quindi maturando per una presa di coscienza collettiva degli ucraini delle due aree, quella russa e quella austriaca, e la guerra accelerò drammaticamente gli eventi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.